Quindi lui odiava le persone più ricche di lui perché da piccolo veniva preso in giro per il fatto che era povero e le donne dal momento che era stato lasciato dalla sua moglie. Questo lo porterà a scegliere dei target ben precisi per le sue vittime. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Allora, la storia di cui vorrei parlare oggi è una storia che è venuta in Corea e ancora una volta è una di quelle storie che mi ha veramente scioccato e mi ha fatto pensare ad alcune cose. Per esempio, può la vostra infanzia influenzare la persona che voi sarete un giorno in futuro? Bene, in questo video parleremo di questo argomento. Prima di iniziare però vi chiederei gentilissimamente di lasciare un mi piace se volete contribuire alla crescita di questo canale, mi aiutereste veramente tantissimo e vi ricordo che io pubblico nuovi video ogni lunedì e ogni giovedì a luna di pomeriggio su questo canale mentre parlo di leggende legate al folklore e piuttosto che notizie di attualità relative al Giappone sul mio altro canale, Sebastiano Sarafini Vita in Giappone, tutti i sabati alle 11. E mi raccomando, se vi interessa ascoltare la mia musica, andate sul mio canale musicale oppure potete anche cercarmi su Spotify che, sapete, la musica è proprio una delle cose che più mi piace fare quindi se vi interessa quello che faccio andate a ascoltarvi la mia musica sui vari digital store o anche su Instagram dove condivido spesso le mie canzoni. Inoltre, se volete vedermi cucinare, vi consiglio anche di andare sul mio canale di cucina in giapponese. Ragazzi, dopo tutta questa, diciamo, lista della spesa di cose che volevo dirvi questi annunci stanno diventando sempre più lunghi spero di non annoiarvi troppo, ma ci tengo insomma. In ogni caso, prepariamoci per parlare di questo caso. Allora ragazzi, se siete un pochino interessati ai criminali soprattutto quelli avvenuti in Corea sarete probabilmente finiti per capitare su questa foto perché è una foto veramente famosa è quella che rappresenta Yoo Yeon-toe che è considerato uno degli psicopatici più terribili di tutta la storia dei crimini della Corea era nato nell'anno 1970 nella Corea del Sud e nel momento in cui è avvenuto questo caso di cui andremo a parlare aveva una trentina d'anni e questo uomo ha avuto una infanzia piuttosto travagliata e difficile è cresciuto in una famiglia estremamente povera suo padre era un alcolizzato i suoi genitori divorziarono quando lui aveva solamente 7 anni tra l'altro il padre era un uomo estremamente violento anche per il fatto che era appunto un alcolizzato il padre quando aveva 15 anni è venuto a mancare mentre attraversava la strada in modo irresponsabile è stato travolto da una vettura che le ha strappato la vita tra l'altro sembra che questo ragazzino era spesso il target di molti bulli e veniva spesso ridicolizzato per via della sua povertà e sembra che forse queste sono state alcune delle ragioni che hanno portato poi questo uomo a comportarsi come vedremo in questo caso sembra che tra l'altro durante i suoi anni delle superiori avesse spesso fatto shoplifting quindi avesse rubato diciamo dei prodotti all'interno di alcuni negozi e era stato più volte ripreso e aveva anche commesso delle rapine quando ancora era un minorenne come potete immaginare il suo comportamento era già piuttosto travagliato quando era ancora giovanissimo e probabilmente ciò era dovuto anche al modo in cui veniva trattato dai suoi coetani tra l'altro sembra che anche questo uomo avesse anche una vena artistica e era anche piuttosto talentuoso a giudicare dalle sue opere guardate qui alcuni dei suoi lavori sono veramente meravigliosi e tra l'altro questa cosa del fatto che ci siano molti psicopatici che hanno questa vena artistica sembra che ci siano degli studi che sostengono che ciò non sia solamente una coincidenza ma che solitamente le menti creative di alcuni individui ci sono proprio degli studi dicono che possono portare a degli alti livelli di instabilità emotiva con il rischio di essere disonesti e altri rischi collegati ovviamente questo non vale per tutti gli artisti però ce ne sono molti che hanno questo diciamo dark side se vi ricordate anche un caso che avevo trattato in passato Boy A ve lo ricordate vi lascio il video qui anche questo ragazzo aveva questa vena artistica anche per la fotografia e anche sul suo sito poi ha iniziato a caricare delle foto piuttosto bizzarre quindi diciamo che più mi vado a scavare all'interno del passato di molti di questi criminali più mi ritrovo casi simili dal punto di vista appunto artistico nel 1991 Yu si sposò e dalla moglie ebbe anche un bambino che nacque nel 1994 sfortunatamente lo stesso anno il suo fratello maggiore si tolse la vita per via della sua depressione anche per il fatto che era disabile il matrimonio di Yu in ogni caso non durò molto a lungo e nel giro di poco i due si lasciarono e Yu ricominciò con le sue attività criminali tra cui qualche rapina e tra l'altro arrivò persino a fare del male a una teenager e per questo motivo fu sbattuto in carcere per tre anni fino all'anno 2000 qui è stato quando la moglie ha scelto di chiedere il divorzio da questo uomo e anche la custodia del loro figlio che aveva quattro anni qui è stato quando Yu ha iniziato a nutrire dentro di sé un odio e un'avversione nei confronti del genere femminile e se vi ricordate quando lui era giovane e quindi era le superiori e veniva preso in giro per via della sua povertà aveva già diciamo incanalato dentro di sé un forte odio nel confronto delle persone ricche quindi lui odiava le persone più ricche di lui perché da piccolo veniva preso in giro per il fatto che era povero e le donne dal momento che era stato lasciato dalla sua moglie questo lo porterà a scegliere dei target ben precisi per le sue vittime era come se questo uomo avesse la tendenza a dare sempre la colpa di tutte le sue sfortune a terzi senza mai prendersene la responsabilità è come se lui avesse questo bisogno, questa necessità sentisse dentro di lui questo desiderio di vendicarsi senza però guardare alla sua situazione e a come avrebbe potuto migliorarla nel 2003 quando finalmente poteva uscire dalla prigione decise di vendicarsi di sua moglie e di suo figlio tuttavia quando entrò nella loro abitazione e vide il loro figlio riteneva che questo bambino era troppo adorabile proprio queste sono state le sue parole e per questo motivo non poteva vendicarsi non avrebbe mai potuto diciamo strappare la vita al proprio figlio ha visto la sua moglie bere una birra e sembrava come se fosse triste quando ha visto sua moglie bere questa birra in questa casa che non era proprio diciamo una reggia è come se avesse provato una sorta di empatia per la donna e per questo motivo ha scelto di non vendicarsi più di sua moglie ma di lasciarla in pace tuttavia la sua sete di vendetta non fu placata e scelse di vendicarsi delle persone ricche e qui ragazzi ci sono una serie di speculazioni che molte persone hanno aperto questo cos'è stato? perché questo uomo ha provato queste emozioni? perché ha scelto di non vendicarsi della sua famiglia? alcuni sostengono che la sua ex moglie e il bambino sono stati solamente fortunati altri sostengono invece che ci sia qualcosa di più che ha portato questo uomo a scegliere di non vendicarsi più nei confronti di questi individui ragazzi sono curiosissimo di sapere anche la vostra opinione quindi se avete delle opinioni in merito a questo punto di questa faccenda scrivetemelo nei commenti che sono curiosissimo di sentire la vostra opinione in ogni caso da quel momento in poi l'uomo ha cercato in tutti i modi di vendicarsi delle persone ricche il 24 settembre del 2003 infatti lui si introdusse nella casa di un professore di 73 anni ormai in pensione e all'interno di questa abitazione l'uomo ha subito ucciso il professore mentre la moglie è terrorizzata e si è subito rifugiata all'interno di un armadio che conteneva i loro risparmi la donna ha subito detto all'uomo di prendere tutto quello che voleva che gli avrebbe dato tutti i suoi soldi solamente di risparmiarle la sua vita è stato qui che l'uomo ha risposto alla donna pensi che io faccia tutto ciò per soldi e queste parole veramente mi hanno fatto gerare il cuore l'uomo infatti non derubò la famiglia di nulla tutti i soldi che avrebbe potuto prendere in quell'occasione li ha lasciati in quella dimora l'uomo ha ripetuto la stessa dinamica di questo omicidio in un'altra abitazione ma ancora una volta l'uomo non ha cercato di derubare questa nuova vittima e sembra che l'uomo non avesse cercato di prendere nessun soldo in tutti questi crimini che andrà a commettere anzi lui si intropolava in queste case solamente per riuscire a prendersi una vendetta nei confronti di tutte queste persone il che è veramente spaventoso sembra che volesse sentirsi come potente e quindi sceglieva le sue vittime non giovanissime in modo che queste non potessero avere la meglio su di lui e che quindi lui potesse sentirsi più potente che vigliacco ragazzi successivamente si intrufolò nella casa di un altro uomo un altro anziano di 69 anni ancora una volta un altro uomo ricco in un quartiere molto ricco e qui non si limitò a uccidere l'uomo ma appiccò un incendio per distruggere la sua intera abitazione e in questo incendio altre persone persero la vita e qui l'uomo ha incontrato la sua fidanzata e sembra che la donna fosse al corrente delle attività diciamo illegali in cui l'uomo era coinvolto la ragazza che era una escort tra l'altro ha cercato quindi di lasciare questo Yu entrano praticamente in una forte discussione e l'uomo aveva anche tentato di ucciderla tuttavia dal momento che c'erano molte telefonate tra Yu e la sua fidanzata ha scelto di non ucciderla dal momento che possibili investigazioni sarebbero potute emergere e magari queste telefonate sarebbero state rintracciabili e quindi ha scelto di lasciarla in pace ha preso tuttavia questa sua rabbia che aveva accumulato in questa relazione e l'ha riversata poi nelle sue prossime vittime e è stato qui che la sua sete di vendetta si è spostata dalle persone ricche alle X-Core quindi lui non ha voluto prendersi una vendetta nei confronti della sua ragazza ma di altre ragazze che avevano magari delle somiglianze con questa donna quindi che facevano il suo stesso lavoro piuttosto che erano simili fisicamente o avevano altre caratteristiche che potevano in qualche modo ricondurle alla ragazza che le aveva forse spezzato il cuore l'uomo ha quindi iniziato a frequentare una serie diciamo lunga di escort la prima era una donna di 24 anni con la quale spese un giorno assieme e poi decise di farla fuori in totale lui riuscì ad uccidere ben nove escort una dietro l'altra tra l'altro ci sono alcuni dettagli veramente macabri come sono delle voci che dicono che lui si mangiava il fegato di queste donne anche se queste voci non sono mai state confermate la cosa non mi sorprenderebbe analizzando comunque la pazzia che si legava dietro a questo uomo io tra l'altro telefonava anche alle famiglie di queste ragazze prima di ucciderle per vedere che tipologia di ragazze era eccetera eccetera la polizia ovviamente iniziò a notare che c'erano una serie di escort che erano scomparse e riuscì comunque a farsi dare il database di tutte le persone che avevano telefonato per richiedere i servizi di queste donne la polizia con le indagini riuscì a rintracciare questo uomo dal momento che tutte le ragazze scomparse sembrava che avessero Yu come cliente in comune e tra l'altro ragazzi sembra che l'uomo ha telefonato nuovamente a una nuova agenzia di escort per chiedere una nuova ragazza è stato proprio lì che l'uomo è stato rintracciato la polizia arrivò lo mise in manette e in qualche modo non si sa come ha iniziato a comportarsi in modo piuttosto strambo e ha riuscito a convincere la polizia a farsi togliere le manette non so in che modo si era comportato io non so perché la polizia le ha tolto le manette a questo uomo io l'ultima cosa che farei conoscendo la pazzia che si rinchiude dietro a un uomo che comunque si è macchiato di tutti questi micidi l'ultima cosa che farei è togliargli le manette in ogni caso pensate che quando gli hanno tolto le manette lui è iniziato a scappare per riuscire a non farsi arrestare in ogni caso la polizia ci ha messo ben 11 ore per riuscire a riacciuffare questo uomo quindi capite che se la polizia in queste 11 ore non fosse riuscita a ritrovarlo ci sarebbe ancora un criminale di questo calibro in giro per la Corea oggigiorno questo uomo ha strappato la vita a ben 20 persone ragazzi questo uomo è tutt'oggi in carcere è nel braccio della morte non si sa quando la sua esecuzione avverrà però ragazzi questo uomo è tutt'ora in vita e in questo momento ha all'incirca l'età delle sue vittime io spero davvero che in questo momento si renda conto di come magari queste vittime si sono potute sentire in quel momento dal momento che in questo momento ha più o meno la stessa età sembra che comunque in corte e poi in seguito anche in prigione lui si sia sentito in colpa per tutte le sue azioni e abbia cercato di chiedere scusa tuttavia ha anche sottolineato che se probabilmente non fosse mai stato catturato avrebbe continuato a uccidere nuove vittime e tra l'altro ragazzi uno dei particolari forse più agghiaccianti di tutta questa storia è stato quando le è stato chiesto se mai avesse provato paura e l'uomo ha risposto che l'unico momento in cui ha provato paura è stato quando suo figlio lo ha contattato nel bel mezzo di un omicidio tuttavia questa sua paura non sembrava fosse abbastanza da fermarlo da tutte queste azioni è come se il modo in cui l'uomo è stato trattato nella sua vita forse la posizione sociale in cui lui è cresciuto ha condotto questo uomo a comportarsi in questo modo questa è la sua versione dei fatti secondo me è un uomo che avrebbe potuto fermarsi in qualsiasi momento ha fatto delle scelte che sono sotto la sua responsabilità e per questo motivo non va compatito in alcun modo è vero che è cresciuto in una famiglia disastrata tuttavia ci sono anche delle persone meravigliose che sono cresciute in questi ambienti quindi diciamo che è una storia veramente difficile però ragazzi lui ha fatto tutte queste azioni per via della sua volontà è lui che ha scelto di comportarsi in questo modo sono davvero curioso di sapere la vostra opinione e vi chiederei gentilissimamente di dirmi la vostra opinione qui sotto io vi ringrazio veramente tantissimo per aver scelto di vedere questo video se volete altri video come questo lasciate un mi piace che mi aiutereste a crescere su questo canale e noi ci vediamo al prossimo video e noi ci vediamo al prossimo video